Ha vinto il Barletta, capace di espugnare con il gol di La Carra e l'autoretta di Misuraca all'Atlantico da muri di Grottaglie. Hanno vinto però anche tutte le antagoniste domenica scorsa nel 25esimo turno del campionato di eccellenza. Le distanze tra le prime cinque della classifica dunque sono rimaste praticamente invariate. Idem il gap dei Biancorossi della vicecapolista Casarano, avversaria proprio domenica prossima sul sintetico del San Sabino di Canosa. L'obiettivo era quello di arrivare allo scontro diretto con il Casarano e cercare di vincerlo. Sempre meno tre dai Salentini e dalla piazza d'onore dunque. L'operazione a gancio in pratica è ufficialmente partita, la sfida contro il Casarano non è fondamentale, ma davvero può significare molto nella stagione del Barletta. Ecco perché il vice allenatore Davide Papagni, che anche domenica prossima sostituirà in panchina lo squalificato Massimo Pizzulli, ha scelto di chiamare a raccolta i tifosi Biancorossi. Il desiderio nostro dei tecnici della squadra è avere una mano dai tifosi, cioè il nostro sogno è portare duemila persone per lo scontro diretto. Per il momento siamo stati sempre seguiti, ma sempre dai soliti sostenitori. Vorremmo che la città ci dia quella spinta in più in questo scontro delicatissimo. La società Biancorossa intanto ha indetto per la super sfida contro l'attuale seconda forza del campionato di eccellenza la giornata pro Barletta. Non saranno validi per l'occasione gli abbonamenti. Capitolo formazione. Pizzulli recupera Moscelli di Uff e Fabiano, tutti assenti a grottaglie. I primi due per squalifica, il terzo perché indisponibile. Da non escludere, considerato l'elevato coefficiente di difficoltà della partita, la conferma tra i pali dell'esperto di Candia, che potrebbe essere preferito al giovane portiere classe 97 di Uff. Moscelli ritroverà certamente una maglia da titolare in attacco.